Chi ha? Lui è Lui Lui è Lui No, lui è Lui C'è due pistole, no? Che fio Due, lì a una, due Se avete 65, non avete trovato un foglio Ma uno solo, fate come cazzo per fare Non serve no, non servono manche cose Portate... Ma perché? Perché devi regalare la cordata a cappatoio, no? Lo leghi come le pare Poi più lo leghi bene E più c'è il tre pannate, no? E spero che serve Vede sola proprio? Quella sola E come fa a stella carrozzina? C'è un'elettronica C'è una voglia di vita a stella E' una pazzesca Ma sai che com'è sta da sola? Che fa da sola? C'è una carrozzetta elettrica, quella elettrica C'è la perché è il suo Ah, è roba sua? Gli ha tirato pari tutto, no? Gli ha fatto dei 130-140 mila euro liquidi C'è il portiere, no? No, è stappato Damiro, se tu vedi che se la vieni Gli metti la carta Poi loro qua non usano Per poi non fa un schiattino Però si tirano a botta le altre Perché io penso quella lì Quella da Luciano è vera perché è marito Quella è che sei marito E si raccomandava che voleva vincere nei titoli Però non c'è perché anche Ci sono fattori psicologici E lavoriamo su Terenzio Quello che ci stanno in via E' disposta a proteggerlo E a vita